Più di 84 milioni di euro in dieci anni, tanti sono i soldi che la provincia di Verona ha utilizzato per il territorio grazie ai fondi comunitari destinandoli alla pianura e alla montagna veronese grazie al servizio patti territoriali e progetti con l'Unione Europea. Abbiamo come struttura dell'area programmazione e sviluppo del territorio ha portato nel veronese circa 84 milioni, oltre quasi 85 milioni di euro. Questi sono finanziamenti che sono sia finanziamenti comunitari che nazionali che regionali e sono serviti per lo sviluppo del territorio sia per le iniziative imprenditoriali che per la realizzazione di opere pubbliche e quindi infrastrutture. Sono stati utilizzati innanzitutto nel settore dell'industria e dell'artigianato e nel settore agricolo. Taluni di questi finanziamenti negli anni scorsi sono riusciti a finanziare interventi di agricoltori e di aziende agricole anche per l'80%. Ne hanno utilizzato più di 200 aziende sia nel settore industriale che nel settore agricolo dunque questo sta a significare che si è lavorato bene. In conferenza stampa è stato lanciato l'invito agli imprenditori veronesi a non lasciarsi scappare l'opportunità data dai fondi comunitari. Nel 2014 si aprirà un settennio in cui i fondi per i paesi comunitari in totale sarà di oltre mille miliardi di euro. È necessario dunque che le imprese attuino una cultura programmatoria di ingegneria finanziaria. Insomma progettino adeguatamente gli interventi per poter accedere ai finanziamenti senza scoraggiarsi, senza lasciarsi sommergere dalla burocrazia e affidandosi a persone esperte della materia. Bisogna dire che nel prossimo futuro dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo accelerare, dobbiamo impegnarci maggiormente perché i fondi disponibili per i prossimi sette anni in comunità europea sono veramente molto molto importanti. 1.376 miliardi di euro è un numero impressionante per i prossimi sette anni e penso che le nostre aziende e i nostri enti si devono veramente attrezzare per cercare di portare sul nostro territorio questi fondi.